Bella a tutti ragazzi qui con il G per rinnovate nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su Minecraft con l'episodio numero 30 E come vedete, no voi non vedete nulla Però questo qui è Minecraft 1.9 ragazzi Finalmente è uscita la 1.9 Questo qui è il primo video che faccio sulla 1.9 Vi faccio vedere Come leggete là sopra Minecraft 1.9 Vanilla E comunque appunto questa è la 1.9 E hanno aggiunto praticamente qua la doppia mano Che è veramente utilissima Cioè ancora non l'ho utilizzata Però come vedete per esempio È buona nelle cave Cioè quando andiamo giù Perché con questo colpiamo i mostri E con questo piazziamo la torcia Cioè raga veramente è un'efficienza incredibile cavolo Vabbè poi come vedete c'è tutto sta cosa Vedete cioè si può fare il vialetto E questo vialetto si fa semplicemente Cliccando il tasto destro Con la pala Praticamente invece di scavare Andiamo a creare questo vialetto Vabbè ma questo non è un video tutorial Solo 1.9 raga Anzi ragazzi fatemi sapere Se vi potrebbe interessare Un video dove vi faccio vedere Tutti i contenuti Della 1.9 L'hanno già fatto in molti Però fatemi sapere Se appunto vi interessa Un video appunto dove vi mostro Tutti i contenuti Della 1.9 Quindi veramente qua sotto nei commenti Veramente tantissimi e tantissimi commenti Dove mi dite se volete vedere La 1.9 come è tutta Qua sotto questo video Riempietelo pieno di like Che poi sarebbe stato Riempitelo con dandy like Invece io ho detto Riempietelo pieno di Una roba strana Però ragazzi qua abbiamo Il nostro mega orto Che come vedete È tutto fiorito Quindi adesso noi Andremo a devastare tutto E vedere Quando cavolo Mi droppa sto coso Ragazzi Guardate Quando ne abbiamo raccorto Allora sono Uno stack Due stack Tre stack Quattro stack Cinque stack Cinque stack E mezzo Di grano Cioè raga Ditemi se non è tanto Ragazzi Veramente Molto colpito Da questa farm Cioè veramente assurdo Produce veramente Un botto Come mi aspettavo D'altronde Cioè raga Già solo grazie a questa farm Praticamente abbiamo Cibo in vinito Cioè pane in vinito Ora L'abbiamo ricoltivato tutto Ragazzi Siete pronti a vedere La mega macchina La mega farm Di Carne cotta Di maiali Guardate Allora Ovviamente fa schifo Se lo so Fa schifo Finita ovviamente Fa ancora schifo Però Come potete vedere Adesso Funziona Comunque vi spiegherò Come funziona E come è stata costruita Così Se la volete fare Nel vostro mondo Praticamente La potete fare Senza troppi problemi Allora Qui ancora lo devo chiudere Lo so Qua ancora lo devo chiudere Ma io ci metto una torcia Là dentro Perché non No 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 Che dico Ecco Ragazzi Ditemi pure Che sono scemo Perché torto Non ne avete Cioè vi rendete conto Ho messo la fottuta torcia Dove Sotto il ghiaccio Veramente L'intelligenza zero Per fortuna che mi è avanzato del ghiaccio Da quando lo sono andato a prendere Perché Se no veramente era una cosa incredibile Ma comunque raga A proposito della storia del ghiaccio Praticamente Per trovarlo Voi mi avete detto Craftati una mappa Eh l'avete fatta facile Craftati una mappa Mi sono craftato due mappe Due mappe E ve le faccio vedere C'è Una e due Vedete queste due mappe Fanno una più schifo dell'altra Questa si vede così E questa si vede così Sono praticamente due mappe Uguale identiche Inutili Inutili Perché non servono assolutamente a nulla E alla fine ragazzi Voi vi starete chiedendo Ma come è fatta a trovare tutto Beh Semplice Là c'è un biller Che supera le nuvole Cavolo Mi sono messo Ho costruito quel coso Però ho allungato Tipo la visuale Attraverso le modifiche Del sistema grafico E quindi praticamente Visto che ho allungato La visibilità Riuscivo a vedere Fino a oltre E praticamente Mi sembra Se non mi sbaglio Verso là C'era una montagna Che era talmente alta Che appunto in cima Era ricoperta Di neve Quindi io sono partito Con un bel secchio d'acqua E sono andato là sopra Ho scavato E boom L'acqua si è congelata Ed è diventata Ghiaccio Ecco appunto Danno sistemato Perché come vedete Acqua non ne passa più Comunque allora Vi spiego immediatamente Come funziona Tutto ciò Allora Come vedete appunto Vabbè Come l'ho costruita L'avete visto Nello scorso episodio Vi dico solamente Cosa ho modificato Allora Innanzitutto Vabbè L'acqua lì dovete mettere Un secchio d'acqua lì Un secchio d'acqua lì Così avviene il flusso Dopo che qua c'è il flusso Come vedete Qua c'è un altro flusso d'acqua Creato da un secchio d'acqua Messo lì E un altro messo lì Qua ci sono Sei blocchi di ghiaccio Che sono Una striscia qua Una striscia qua E una striscia qua Da qua forse Si notte un pochettino meglio Io avevo fatto un errore Praticamente come vedete Quello lì è un blocco E praticamente Di sotto ci passavano I maiali Anche quelli grandi Quindi per sistemare Tutto ciò ragazzi Dovete mettere Un blocco di slab Uno là E uno là Lì sotto Così ci passa Solo quello piccolino Poi vabbè Lì l'acqua Viene fermata Con dei cartelli Poi come avete detto Anche un'altra cosa Mi avete detto Non mettere il legno Perché il legno Si brucia con la lava No ragazzi La teoria di minecraft Non è così Il legno Va a fuoco Dopo che tipo è Accondatto con la lava Tipo 10 secondi 5 secondi Non ricordo bene Ma a noi Praticamente ci servirà Solamente per Per un secondo Perché noi Cliccheremo così E poi cliccheremo così Vedete Non andrà a fuoco nulla Cioè Avverrà il coso Andranno a fuoco I maiali Però Lui Il legno Non rimarrà a fuoco E vabbè Poi qua c'è tutto il collegamento Che ancora qua sotto È così È molto grezzo Mi sa che rimarrà grezzo a vita Però ragazzi Per far riprodurre i maiali Ci vogliono le carote Ci vogliono le carote Però Le carote dove si prendono Te le coltivi tu così Oppure vai in un villaggio Dei villaggeri Lì E quindi Villaggio dei villaggeri E quindi praticamente Loro Dovrebbero avere Le carote Loro le dovrebbero avere Le carote Ora io se non erro C'è un villaggio Qua vicino L'ho visto Mentre andavo a prendere la neve Vabbè ma boom Ora che lo cerco È scomparso Cioè Popo scompare nel nulla Ragazzi inoltre Mi avete consigliato Una struttura da fare Veramente molto Ma molto figa Cioè mi avete detto Tipo di costruire Una mega torre Perché Forse l'idea Aveva venuta da quel pillar Non lo so Comunque Appunto Dove dicevate Di costruire Una torre Una bella torre Tipo di vedetta Dove appunto Potevamo vedere Tutte le costruzioni Salendo in cima Alla torre Il bello Che ne ho visti Ben due Durante il cavolo Di passaggio Se magari Quella mappa Di merda Funzionerebbe Come una vera mappa Almeno Sarebbe Molto più semplice A quest'ora Ce l'avrei Tutti e due Sul radar No Invece no Siccome la mappa È una merda Quindi Ciao ciao Ma porca vacca No 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 Dai Ma che cazzo Ci fa Rega perché Che cazzo Falli Dai però Dai Ma se stiamo In un luogo Luminoso Cazzo Che cazzo Ci fai qua Ma stai scherzando Stai scherzando Stai scherzando Mori Mori Aspè aspè Ci sono i cani Che lo vogliono mangiare Mai vai vai Mai cani Guardalo come scappa Lezzo Boh Vergogna Ma te c'è mori Sai Non mi interessa Ve la siete Meritata Rega Rega È nato Il piccolino No Vi giuro Non me lo aspettavo Che nasceva il piccolino O almeno Non era possibile L'hanno aggiunta Con la 1.9 Sta cosa Ho allungato La visibilità Infatti sta ricaricando Il mondo Eccolo Eccolo Lo vedete Lo vedete Il villaggio Che sta comparendo Laggiù in fondo Ragazzi Tra l'altro Questa qui È la prima volta Che andiamo In un villaggio Dei villaggeri Nella serie Di Minecraft Cioè raga Non so Se ci rendiamo conto Della grandissima Storia di Minecraft È la prima volta Che andiamo Ad incontrare Questi nostri Carissimi Vicini Non grudeli Allora Loro dovrebbero avere Degli orti Spero che ce l'hanno Non credo Che non ce l'hanno Ragazzi Io c'ho la sfiga Che mi perseguita Cioè Tra tutti i villaggi Che c'erano Questo è il villaggio Più povero Malfamato Molto probabilmente Cazzo Non hanno l'orto Non hanno il fottuto orto Cioè stiamo scherzando Ragazzi Veramente È una sfiga Incredibile Incredibile Come cazzo è possibile Boh ragazzi Veramente Non so che dire Non so cosa pensare Cioè abbiamo trovato Il villaggio Più brutto del mondo E sapete che vi dico Io la piando qua Boh raga L'ho piando lì Il bombial ce l'ho Ragazzi Sto raccogliendo Delle ossa Per farmi il bombial Che mi serve Per far crescere La pianta In maniera veloce Boh ragazzi Vediamo di usarla Vediamo Ok Sono già cresciute Come vedete Se crescono velocemente Spero Me ne dia Qualcosa In più Ottimo Quante carote Ci ha dato Tre carote Ragazzi Io continuo a fare così Ci prendiamo Un bel po' di carote Così almeno Possiamo dare da mangiare A quegli animali Siccome Quegli stronzi De villager Non hanno Un villaggio decente Quindi Grazie al bombì Allora Diamo Carota a lui Carota a lui Fate il piccoletto Che dobbiamo fare vedere Che funziona La macchina Dai Allora vedete Loro fanno Il piccoletto Il piccoletto Passa di qua E arriva Lì dentro Arriva lì dentro E io sono stupido Vi spiego anche il perché Aspetta un attimo Perché praticamente Mi sono dimenticato Di toppare Dove non già avevo il vetro Quindi adesso Lo faccio ricadere all'interno Ehi c'è la carota Carota Praticamente ragazzi Con questo poco ciottolo Che ho a disposizione Inizio a fare La base Del progetto Che mi avete suggerito Appunto Quello di costruire La torre Da dove vedere Tutto Perfetto Allora Si è rifatto giorno Praticamente La mia idea Quella iniziale È di costruire Una torre In stile Di quella Tipo In stile GTA Praticamente No Sapete quelle torri Che tipo Si vedono A forza Angudo Al penitenziario Vicino al deserto Allora ragazzi La mia idea È quella Di fare Tipo Non lo so Una torre Larga Di boh Magari saliamo Vediamo un po' Dove arriviamo Con tutto sto ciottolo Allora ragazzi Facciamo che Fermarci qua Perché Non ho le scale Per risalire Veramente un casino Comunque Se non mi sbaglio È alto Undici blocchi Finora Ora magari Io poi Me lo continuerò In off camera Quindi vado a fare tutto E poi Lo finiamo Insieme Nel prossimo Episodio Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Inoltre Fatemi sapere Cosa ne pensate Dell'idea Quei ho avuto Riguardante la 1.9 Se vi interessa Vedere tutti i contenuti Della 1.9 Veramente Fatemelo sapere Con tantissimi commenti Ci tengo Veramente tantissimo Inoltre Fatemi sapere Altre Costruzioni Da costruire Per il prossimo E il prossimo Episodio Quindi Se volete passare Dalla pagina di Facebook E dal proprio Instagram Trovate i link Qua sotto In descrizione Iscrivetevi al canale Per un nuovo video Qua dove c'è tutto Bene raga Esattamente lassù Perché non Non so Se arrivando il treno Mi becchi Praticamente Se mi becca Sono fottuto Quindi Oh Finalmente è salito Alleluia Alleluia Dove devo andare Ah c'è del parkour Da fare No no Dove cazzo vai Alleluia Grazie a tutti.